Un primo tempo giocato quasi alla percorso e poi nel secondo tempo il percorso è sparito? Sì, solitamente facciamo l'incontrario, questa volta invece siamo partiti bene, subendo anche i contraattacchi del Vicenza. Purtroppo è un momento particolare, non abbiamo più scusanti, è inutile star lì a scuse non le troviamo. C'è solo da rimboccarci le maniche e ripartire già da venerdì sera, che è una partita fondamentale. Cosa è secondo te che non ha funzionato oggi? Le analisi tecniche le lasciamo all'allenatore, io come tutti i compagni devo solamente ripartire, perché qua c'è poco da parlare. Qua bisogna guardare veramente noi stessi tutti negli occhi e ripartire, perché qua la strada è veramente in salita. Un giudizio non tecnico, però come hai visto i nuovi compagni di squadra che sono arrivati adesso a gennaio? Loro sono arrivati da una settimana, quindi è normale che qualcuno ha giocato di meno in questi sei mesi. Le aspettiamo perché ci dovranno dare una grossa mano.